Gemellarte Off è la costola dell'arte cinematografica del Festival Gemellarte. Come nelle precedenti edizioni proietteremo quattro film in lingua francese con sottotitoli originali, saranno proiettati al caos e l'ingresso sarà gratuito. Quest'anno abbiamo voluto arricchire la manifestazione con un momento di lavoro e di analisi dei rapporti tra Italia e Francia per ciò che riguarda in particolare la cultura cinematografica e durante questa giornata di lavori sarà proiettato l'ultimo lavoro di Karin De Mille e di Mario Brenta che è un film che dà conto della condizione umana in questo particolare momento che stiamo vivendo nel pianeta. Alla giornata di lavori parteciperanno esperti, persone del settore, in particolare ci sarà la SIAE che hanno accolto la richiesta di patrocini e di partecipazione e ci sarà, forse è una novità, un rappresentante del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, che è quella istituzione che nell'Unione Europea costituisce l'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni. Sarà un momento, così come tutto il festival, dove rifletteremo sul cinema come momento di riflessione, di osservazione della realtà e non solo come di trattenimento. Era nostra intenzione anche dare un po' seguito a quello che ci sembra un rinnovato interesse per l'arte cinematografica del territorio, con la costituzione della Film Commission quest'anno. E ultima cosa che vorrei dire è che quest'anno abbiamo rinunciato ai grandi classici per poter dare il maggior spazio possibile ai temi contemporanei, e tant'è che la rassegna, quest'anno si titola proprio contemporanea. Vi aspettiamo...